Ci troviamo in via Eridano a Cremona dove è stato inaugurato un nuovo centro commerciale cinese. Questo sta suscitando diverse critiche da parte dei cremonesi perché da una parte c'è il discorso legato alla viabilità già fortemente compromessa non solo dal manto stradale ma anche dal fatto che in diversi orari della giornata, anche nel fine settimana, si vanno a creare fortissime code, questo ovviamente è il discapito dei cittadini. E dall'altra parte c'è il punto di vista economico perché come sappiamo ci sono oltre 40 attività nel centro storico che hanno abbassato la loro serranda definitivamente e questo ovviamente non può, questo sorgere e nascere di nuovi centri commerciali non può che continuare ad aumentare questa triste realtà. Vedo penalizzati magari i nostri commercianti nella nostra area, nel nostro piccolo paese però non si sa bene come fare qua. Tu ad esempio quando devi scegliere di andare a comprare qualcosa vai nelle botteghe di paese oppure preferisci andare presso i pali commerciali? Centro commerciale, sicuramente centro commerciale, più anche che l'online. È un danno però d'altronde la realtà è questa quindi dobbiamo conviverci, nel bene o nel male penso che il futuro sarà questo. Non ne penso bene assolutamente, infatti preferisco comunque andare nei negozi sia dalle mie parti che comunque anche in città. Infatti mi dispiace molto che in città chiudano tantissimi negozi. L'ultima domanda che le voglio fare in merito alla viabilità, una viabilità già compromessa perché il traffico non è poco, con continuare a spuntare di queste realtà non facendo nuove uscite, dove andremo a finire? Non lo so, male presumo perché il traffico normale durante la settimana non è un gran problema, ma penso durante le festività o comunque quando le persone si spostano di più anche con gli altri negozi che stanno aprendo più avanti, secondo me non è una bella cosa che siano così concentrati tutti nello stesso posto.